attenzione è venuto il padre di mose ken o lo zio mi ricordo a dire che mose ken è saltato tutto salve ma io l'ho visto questo salve ma lei volevo dire che è saltata la trattativa è saltata quindi è saltata comunque mose mose vorrebbe fare il cantante non il calciatore il cantante però io l'ho visto è un attore io chi un attore lei attore sì io attore sì l'ho già vista attore sembra un attore siamo un attore e quindi quel pirla vuole fare il cantante non vuole giocare cioè vuole giocare si vuole continuare mose ken vorrebbe fare il cantante non vuole fare il calciatore e ha detto che cosa si 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 ha detto che a torino li prende per il culo bene quindi si concentra sulla musica che tanto a torino ha detto non capiscono un caso questo ha ragione ragione sono impegno mamma mia che coglioni però lei è un attore lei mi sembra una faccia già già vista sul grande schermo è un rapper è un rapper anzi è anche bravo un gran cantante davvero è un cantante mose ken quindi io assomiglio a un attore sì un attore del grande schermo un attore non so io non so grazie non lo so comunque mio nipote non il nipote non vuole fare vuole stare a torino o mio figlio che ho detto prima mio figlio ah sì che cos'è figlio o un nipote non ho capito mose ken salta con l'atletico perché lui è un cazzo di cantante quindi non rompete i coglioni però vuole prendere i soldi esercitare la musica li prende per il culo perché a torino sono questo sono dei pirla sono bene lei sembra un attore bene vedersi però ho le mani bianche cazzo ha le mani bianche le mani bianche come cazzo è di colore con le mani bianche comunque scoop mose ken saltato tutto adesso dico no no lui vuole fare il cantante vuole prenderti per il culo a torino mose per sempre dai